benvenuti benvenuti cari amici siamo bt questo nuovo video oggi andiamo a parlare di silum perché è un token particolare sul quale addirittura si dà il 400 mila per cento di api all'anno per cui andremo subito ad analizzarlo uno di voi che me l'ha comunicato in privato e mi ha chiesto se effettivamente potevo andare a fare un'analisi naturalmente potete capire come il 400 mila per cento all'anno sia insostenibile però vi dirò una cosa ok che potrebbe fare diventare ok questo progetto sostenibile se effettivamente avrà per cui iniziamo subito vorrei fare una precisazione ok avevo già parlato di un token meta ufo che secondo me il quale era uno scam ok in particolare in riferimento all'hard drop e qui ho notato che delle differenze perché potrebbe essere uno scam ok molto probabilmente però vorrei farvi vedere che le differenze rispetto a meta ufo quindi questo è il mio intento nel video di oggi come come dirvi non penso che sarà un progetto che registrerà da qua a dici anni probabilmente nemmeno da qua a un anno però si può sfruttare ogni tanto questi trend ok per speculare naturalmente non sono nei corsi finanziari nei corsi di trading però ora iniziamo la nostra analisi per cui Silum rank di mercato 4826 quindi è un rank che effettivamente rispecchia la coin capitalizzazione di mercato di 35 milioni ecco che già qui questo dato non rispecchia andremo poi a vederlo ora la coin sta andando verso l'alto ok si sta mantenendo su un prezzo di 3 centesimi e 3 ha iniziato da un prezzo di 2 centesimi quindi sta più o meno lateralizzando quindi finora diciamo si sta comportando in maniera fisiologicamente normale qual è la particolarità però di questo token che dà il 395 mila per cento all'anno e sostanzialmente loro vi danno il cd api ogni minuto quindi c'è un auto stake ora vorrei fare con voi un piccolo ragionamento se noi mettiamo 100 euro ok e abbiamo il 400 mila per cento all'anno ok dovremmo trovarci circa 40 mila euro in un anno capite che questo non è sostenibile ok per la piattaforma quindi due soli delle cose o questo numero serve ad attrarre capitali e poi successivamente caleranno drasticamente questo api oppure l'api sostanzialmente non entra mai in azione io ora non l'ho mai provato però naturalmente voi mi avete chiesto l'analisi e io vedo quindi sostanzialmente questa è la questione naturalmente poi una questione da tenere d'occhio ok è il ragpul che naturalmente può sempre avvenire però qui vi dicono che diciamo saranno certificati da certic e per i primi sei mesi ok i token sono bloccati su unicrypt quindi da questo punto di vista non dovrebbero esserci problemi ma naturalmente qui sono progetti ok che sono fortemente speculativi quindi vi potete anche fare un 10x tra 10 giorni ok come potenzialmente potete perdere tutto ora diciamo che l'autostake e ci aggiungiamo anche il fatto che è appena una coin appena partita potrebbe essere interessante in ambito speculativo quindi valuterò il tutto normalmente io ve lo sto analizzando un'altra cosa particolare ma io non vi lascio il link in descrizione è che naturalmente potete guadagnare 80 di questi token ad ogni persona che voi referate e capite che il tutto diventa interessante ok in cui bisogna capire se effettivamente la piattaforma funziona sembra che effettivamente comunque ci sia un ok un app l'app sia molto buona e in più c'è anche un cosiddetto hard drop che dovrebbe partire naturalmente secondo me è una piattaforma un token volto ad attirare capitali naturalmente l'api vuole attirare capitali quindi o si sfrutta secondo me sono due l'ipotesi o si resta fuori naturalmente e quindi si guarda a me piace di solito guardare oppure con questi api uno entra anche sul giornaliero fario stake guadagna ed esce diciamo questa secondo me è la cosa più interessante naturalmente il token lo si va ad acquistare su pancake swap quindi semplicemente basta su pari i bnb ok per siloom ovviamente se ad esempio su oppo 040 bnb avrò questo numero di siloom e più in particolare io volevo mostrarvi quelli che effettivamente sono i suoi dati perché soprattutto chi è un trader ok secondo me queste sono coin ogni tanto mi diverto a tradarle naturalmente ora siamo in uno skyrockets pazzesco ed effettivamente però la liquidità è di 133 mila dollari vediamo qua quindi naturalmente una coin fortemente volatili e quindi magari chi sta qui sotto monitora ok i dati quindi si guarda un po' le entrate e le uscite può fare bei numeri secondo me soprattutto se si va ad ascoltare i pump and dumps normalmente attenzione perché potrebbe anche morire ok sostanzialmente questo progetto quindi secondo me dai punti di vista è breve termine anche perché veramente è nata da quattro giorni quindi c'è o muore subito ok oppure potrebbe fare un bel hype e poi successivamente comunque andare giù io penso che se non abbassano comunque l'api il progetto non potrà ok tenere quindi questa sostanzialmente mia idea naturalmente se avete altri progetti ok di questo tipo che ogni tanto non venite a fare io ve li analizzo volentieri naturalmente vi dico che la maggior parte di questi progetti non sono sostenibili il corso del tempo però ogni tanto ma di specularci ok può essere interessante per cui se ti piace di questo video ti ricordo di suggerire like iscrivetevi canale e ci vediamo presto attualmente vi ricordo anche i servizi che offro io se volete una lezione individuale di 30 minuti il costo di 25 euro e in più potete abbonarvi sia al gruppo elite se volete con un costo di 50 euro è gruppo premium al costo di 24 euro per cui vi ricordo di suggerire like iscrivetevi canale e ci vediamo presto